Ciao a tutti e benvenuti sul canale, oggi sono qua per parlarvi un po' di Armor Core 6. Questo è un video a chi lo consiglio, quindi un video in cui vi spiego un po' le caratteristiche base del gioco nel tentativo di farvi capire se è un gioco che può far per voi oppure no. Vengo da aver giocato poche ore in realtà, ma già ho un po' un'idea del gioco e soprattutto ho un'idea dei sistemi di gioco, proprio per farvi capire se è un gioco appunto che può essere nelle vostre corde oppure no. Armor Core 6, che gioco è? Allora innanzitutto è un action shooter con elementi cdr e poi bisognerà vedere quanto questi elementi cdr saranno influenti nel gameplay. All'inizio ovviamente non abbiamo la possibilità di cambiare build più di tanto, dunque non è possibile effettivamente verificare quanto il cambio di build sia influente in come si gioca, però sembra in realtà che ci sarà abbastanza, insomma, un'influenza della build su come poi si gioca il nostro Armor Core e quindi sul gameplay. Ma capiamo un attimo di che cosa si tratta. Sostanzialmente, come vedete, è un gioco con una componente action molto, insomma, molto vistosa. Non si tratta sicuramente di un sol slight per ritmo di combattimento e anche per le tecniche di combattimento. La cosa, credo, più importante da dire, ci sono due cose fondamentali e è la struttura, la prima. Questo è un gioco strutturato a missioni, quindi sostanzialmente a livelli, possiamo dire così, e effettivamente questo approccio un po' arcade lo si sente, perché è un gioco che vuole farti giocare più che altro. Non è un gioco che punta tanto sulla storia, sulla narrativa, sull'atmosfera, sul design dei nemici, sulla costruzione di un world building chissà quanto coinvolgente. No, è un gioco che fa del fulcro, del suo fulcro, il gameplay. Quindi la cosa importante è che vi piaccia giocarlo, il gioco. Questa è una cosa fondamentale. Se state cercando un gioco che invece abbia appunto una storia appassionante, un'atmosfera molto coinvolgente, ecco, molto probabilmente non la troverete in Armor Core 6, perché è un gioco che è talmente tanto dinamico e in certi punti anche frenetico, che non ti dà l'opportunità di immergerti in un'atmosfera particolare, in una storia particolare. Anche perché la storia viene raccontata principalmente nei brief di inizio missione. Cioè tu accetti una missione, il committente, visto che tu sei un mercenario, ti dice quello che devi fare nella missione, quindi ti comunica gli obiettivi che hai all'interno della missione e poi tu la vai a svolgere. Quindi sostanzialmente la storia la capisci lì, tramite quelle poche parole, quelle comunicazioni radio, scusate, quelle comunicazioni radio che hai con il committente dei tuoi lavori. Quindi mercenario, struttura missioni, fai la missione, la finisci, ottieni dei denari che puoi spendere per comprarti nuove parti per il tuo Armor Core e personalizzarlo. Un'altra cosa fondamentale da dire, oltre alla prima che era quella della struttura, riguarda il gameplay. Il gameplay è molto, molto difficile per chi non ha mai giocato giochi tipo Armor Core, per chi non ha mai giocato la saga Armor Core come me. Io non ho mai giocato i giochi prima di questo. Il footage che state vedendo è il mio, registrato oltretutto oggi in live. Ma ecco, è veramente complesso. Il sistema di movimento è diversissimo rispetto a tutti gli altri giochi che avrete giocato finora. È un sistema di movimento che è a 360 gradi. E effettivamente noi possiamo muoverci in alto, in basso, a destra, a sinistra, sotto, sopra. Possiamo fare veramente tante cose differenti. E questo sistema di movimento e di combattimento è così tanto diverso rispetto a tutto il resto a tutti gli altri giochi presenti proprio sul mercato che può risultare molto complesso da gestire all'inizio. Ora prendo un attimo il pad in mano così vi faccio vedere. Che ovviamente ci spostiamo con la levetta analogica a sinistra. Con B, quando premiamo B, attiviamo una sorta di accelerazione che rende lo spostamento sì molto più rapido. Questo intanto è un brief di quello di cui vi parlavo prima. Rende lo spostamento sì molto più rapido ma anche molto stile pattino, giustamente. Perché è un po' anche verosimile vuole essere, no? E quindi gestire i movimenti è molto difficile. In più abbiamo anche la possibilità con A di saltare e rimanere in aria se abbiamo un armor core che ha questa possibilità. Perché poi vedremo che è anche possibile in realtà non avercela per niente la possibilità di saltare e di rimanere soprattutto sospesi in aria. Intanto qua vedete questa è la sezione in cui si può modificare l'armor core e comprare anche dei pezzi. E quindi il salto è fondamentale per spostarsi, no? Diciamo in verticale sulla mappa. Ma il salto è rimanere sospesi in aria consuma la stamina. Quando la stamina arriva a zero, tu praticamente cadi per forza e non puoi più compiere determinati tipi d'azioni. Il controllo della stamina è fondamentale. È veramente fondamentale. È anche il controllo dei colpi che avete sulle varie armi perché voi avete un'arma a destra davanti, un'arma a sinistra, scusate, sempre di fronte e poi due armi, una a destra e una a sinistra, nel retro. Quindi quattro armi da controllare con i quattro tasti dorsali. Ed è già lì abbastanza complessa questa cosa. Un'arma può essere anche milì, altre invece possono essere solamente mitra o missili. I missili fanno danni più che altro allo scudo, così come la lama, l'arma corpo a corpo, mentre la mitraglietta normale, diciamo, fa più danno alla vita oltre lo scudo. È veramente un gioco complicato. Specialmente la cosa complicata è tutto lo schema dei comandi, come vi dicevo. Quindi non vi aspettate un gioco facile perché non lo è assolutamente. Ma in questa sua diversità rispetto a tanti altri giochi, anche il sistema di puntamento è molto particolare. Non vi aspettate un gioco in cui si punta e si spara e ciao. No, è molto complesso anche quello. E ecco, è un gioco che in questa sua novità che porta, novità poi relativa, perché per gli appassionati della saga di Armor Core in realtà non è una grande novità, ma per chi non lo è e si avvicina al gioco per la prima volta, tutto questo sistema di controllo combattimento nuovo è molto piacevole, perché risulta appunto qualcosa di fresco, qualcosa di mai provato prima. Ma allo stesso tempo è anche molto difficile da gestire, quindi se si può piacere, per qualcun altro invece può essere un ostacolo al godimento del gioco. È anche un gioco, come dicevo, molto dinamico e frenetico, in cui le battaglie sono veramente tanto complesse da gestire, e dunque ecco, mi sento di dire che non è un gioco facile nell'approccio, ok? Assolutamente. Poi ecco, la componente GDR, come vi dicevo, non siamo andati molto avanti, non sono andato molto avanti, non so bene quanto impattino i cambi di armi, di pezzi di Mac, perché tu puoi cambiare non solo le armi, ma anche le braccia, le gambe, il core, il generatore, il motore, un sacco di roba puoi cambiare al Mac, ovviamente, e ogni cambiamento in teoria ha una conseguenza. Io ho cambiato un'arma e già ho visto che, effettivamente, è tutto molto diverso rispetto a prima, e insomma, questa è una cosa, secondo me, interessante. È sicuramente un gioco che, se uno vuole infognarsi sulla personalizzazione del Mac, ci sta anche ore e ore senza problemi, ecco. E dunque, questo è più o meno una presentazione del gioco, proprio delle sue caratteristiche base essenziali, perché vi ripeto, non l'ho giocato molto. Un video un po' più approfondito, di prime impressioni, arriverà più avanti, ma nel frattempo, volevo darvi proprio quelle cinque informazioni sostanziali, per permettervi di capire se il gioco potrebbe far per voi o no. Quindi, ecco, questa è un po' la questione. Certo, c'è anche la questione tecnica, un po' da approfondire. Il gioco è, chiaramente, un gioco cross-gen, perché effettivamente esce anche sulle console di vecchia generazione, e questa cosa si vede nelle texture, quindi nelle superfici, nella qualità delle superfici, che sono un po' grezze molto spesso, ma anche nell'illuminazione i modelli poligonali non sono sempre insomma molto raffinati, diciamo così, ma per esempio i particellari, come state vedendo in questo momento esatto, sono invece molto soddisfacenti da vedere. Insomma, raga, è un gioco molto particolare, molto diverso da tutto quello che avrete probabilmente giocato se non conoscete la saga di Armor Core. È un gioco complesso, è un gioco anche difficile proprio a livello di comandi e tutto il resto, è strutturato a missioni quindi è un gioco arcade, non ha una storia molto narrata in modo molto coinvolgente nonostante un board building comunque ci sia come ovviamente è solito nei giochi From, non è un Souls-like e insomma queste sono tutte le informazioni veramente fondamentali per capire se è un gioco che può piacervi oppure no. Io intanto vi ringrazio per aver visto il video e noi ci vediamo come al solito alla prossima Ciao a tutti!